Terre Sicane Wine Fest Per tutte le info, segui le pagine social del Comune o il sito ufficiale. Il Comune di Menfi proclamerà per la giornata del prossimo 22 agosto il lutto cittadino in occasione dei funerali della piccola Gioele Palminteri, la bambina di 4 anni morta nei giorni scorsi all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. Lunedì 21 agosto è prevista l'autopsia disposta dalla procura di Palermo dopo che i genitori hanno presentato un esposto per capire le ragioni per le quali è avvenuta la morte della loro piccola. Si indaga Santa Margherita Bellice per fare luce sull'ingendio scoppiato all'interno di un magazzino agricolo incontrà da gulfa a fuoco il capannone con all'interno 150 balle di fieno andate in fumo. Dopo l'azione di spegnimento dei vigili del fuoco i carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini. Il magazzino, il cui contenuto è stato tutto bruciato, sorge su un fondo agricolo di proprietà di un'azienda zootecnica. Nessun nuovo medico all'ospedale di Sciacca a seguito delle nuove assunzioni ed in missione in servizio del personale sanitario presso l'Asp di Agrigento. Con una serie di provvedimenti finalizzati a potenziare gli organici, la direzione aziendale ha definito il reclutamento di diverse figure professionali. L'implementazione degli organici rappresenta la nostra priorità assoluta, ha detto il commissario Mario Zappia, ma nessuno dei nuovi innesti riguarda al momento l'ospedale Giovanni Paolo II. I comuni di Santa Margherita Berice e Montevago possono disporre da oggi di un centro di raccolta rifiuti destinato alla differenziazione e spinta dei materiali. L'impianto è stato inaugurato ieri alla presenza, oltre che delle autorità dei due comuni, dal prefetto di Agrigento Filippo Romano. Il centro di raccolta per l'economia circolare, così è stato chiamato l'impianto, è un insediamento destinato alla differenziazione e spinta. A gestirlo sarà la Samo Ambiente, società partecipata del comune di Santa Margherita. Adesso con questa struttura pubblica si pensa anche al riconoscimento di premialità sulle tariffe a fronte di comportamenti virtuosi. Sport e grande entusiasmo ieri sera nel centro storico di Sciacca per la presentazione ufficiale dell'Unitas Sciacca, la squadra che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza di calcio e che farà il suo esordio stagionale il 27 agosto a Castelvetrano contro la Folgore nel primo turno della Coppa Italia di categoria. Durante la serata sono stati presentati tutti i calciatori che compongono la rosa, quasi del tutto rinnovata rispetto alla scorsa stagione sportiva. Sono intervenuti il sindaco Fabio Termine, l'assessore comunale allo sport Valeria Gulotta e l'arciprete della città Giuseppe Marciante. Domani la squadra Nero Verde giocherà a San Catardo in una partita amichevole contro la squadra che militerà nel prossimo campionato di Serie D. È tutto per questa mattina, grazie e buona giornata, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.